Musica Bello ragazzi sono Gabriel e oggi si torna qua con un nuovo video ragazzi siamo in compagnia di Next Ciao ragazzi io sono Next e benvenuti in questo nostro nuovo video Oh quindi adesso andiamo a vedere la sua squadra secondo me sarà qualcosa Ah la faccio ragazzi Io sto usando l'italiano Hai un po' di negroni I negroni ci piacciono tanto Si inizia subito ragazzi qua Niang Oh subito Ma che macellaio che è Sei un macellaio Ok allora Kagawa dai cinese di merda Cos'è sta roba Oh ma sei un macellaio Salà facci un che va Va a cagare va L'ha visto Oddio Oh no 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 ROB Fermo fermoil fermo Trame 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 Regalaci una pizza Attenzione No Che cazzo fa pigliala vai oh no eh negrone va di fisico fisico potenza un colpo di minchia vai avanti dai 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 ragazzo il brutto del mondo oh 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 shirah shirah l'ho vista dentro cazzo l'ho vista dentro ha vagliato ha vagliato pigliala ha sbagliato no potente reina via no 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 contro piede no ho sbagliato quel subito no guarda quanto corre guarda quanto corre ermanna è velocissimo sono su 3 contro 1 eh no eh ermanna è qualcosa di potentissimo no no che che vai che schifo eh ah ti è colato ok boom che è che è che è che è successo cosa l'è cosa è successo come rosso cos'è come hai fatto a prendere rosso cos'è 18 metri ragazzi io sono una merda eh premo silenzio una cosa tra me e te che stai guardando questo video devi scrivere nei commenti che gabry c'ha pisellina no 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 fai schifo sei dopo un ripudio dai rigore va bene così no che rigore 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 comunque passate dal suo canale ad iscrivervi perché se non lo fate non siete nessuno no aiutatelo che è quasi a 200 no 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 aaaaaaah ma chi c'ha in difesa zio peppe c'ha in difesa ma dai 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 grande no no troppo lungo oh che qui chi che che no tu però sbagli mi sei un culo di merda eh gabry si dai metà di mille metà di mille dai grande ooooooooooooooooooo rekt no 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 Le ha prese Le sta prendendo Quante finocchio ragazzo Quante finocchio guardalo guardalo Non lo butti giù Guardalo Me l'hai aperto Non andavi giù Fc uomo sta perdendo Guarda che ignoranza Guarda che ignoranza Che ignoranza Che ignoranza Che ignoranza Ma erano due rossi Sto giocando in nove Sto giocando senza i terzini Però sto vincendo Ma perché si devono inculare Ogni santa volta Mamma mia Un'attrazione Giulietta e Romeo Sempre insieme Dai cazzo Sei un ricottaro Non sai giocare Allora tra tutto Nooo ricottaro Perfetto Ignoranza Beh mica troppo Allora l'ha visto L'ha visto L'ha visto L'ha visto L'ha visto Nano di merda No 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 Allora No dai un attimino Quello sgranolino Dai Quel petaloso Io so Questa è partita Andrà a finire Con un'arrancata Mostruosa Gli ultimi 20 minuti No Guarda Mi hai preso La testa Al posto Della Che detto Nooo Nooo Raga L'avevo Devolito Puttana Eva Non è ancora finito Dai vero Uomo Vissuto Forza Forza Ancora mia No no Bello No come Come è possibile No Ho sbagliato L'hai sbagliato Oh che ti basta 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 Porca troia Aaaaaah 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 Porca troia E' buonato Gabri La vedi questa Sta minchia A cagare Oh my god Non so Siamo una una Ti ricorda Cos'è Ma vedi Noi non abbiamo I terzini Devono andare Sono un coglione Ti sei cagato Sei sbiancato Ammettilo Un minuto di terrore L'hai avuto Ma quando Let's get freaky Sì 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 Questo lo dedico a te Lo dedico a te Fermi tutti ragazzi Fermi tutti E farvi vedere una cosa stupenda Guardate che mascolinità Guardate che mascolinità Guarda che bello Metti a poco Non mette la mia a poco Metti a poco Ragazzi La partita si conclude qua Per problemi Io comunque vi ricordo Di lasciare almeno 60 like Se volete un'altra sfida con lui Adesso vi lascio qua A fine video Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento E magari un'iscrizione Magari un'iscrizione Se non lo siete ancora Iscritti Passate dal suo canale Ad iscrivervi A mettere un dislike No scherzo Un like Un like Bravo Noi ragazzi Io sono Next Noi ci vediamo In un prossimo giorno In un prossimo video Bella raga Qua da Gabriele è tutto Alla prossima Bella Alla prossima